ciao a tutti eccomi qua anche oggi sono paolo molti di voi mi conoscono già credo la maggior parte forse e come quasi ogni giorno vi do il benvenuti a un nuovo episodio di italiano in podcast questo cambiamento sarà definitivo ho preso una decisione il nome del podcast dopo 450 puntate circa cambia leggermente il titolo rimarrà italiano in podcast senza la l ci ho pensato molto e ho deciso che così mi piace di più spero che anche per voi sia così e quindi vi do il benvenuti a un nuovo episodio di italiano in podcast questo è questa è la puntata numero 453 di venerdì 18 marzo 2022 è finita anche questa settimana registro di sera è sabato da 12 minuti e oggi ce la prendiamo molto comoda e rilassata facciamo una puntata molto tranquilla senza stress con molta calma quindi spero di registrare fino alla fine e senza interruzioni provo a fare questa sfida come come in passato beh all'inizio della settimana è riuscita questa cosa la prima volta in questa settimana che ho registrato il podcast di sera ho fatto tutta la puntata senza fermarmi mai ci provo anche stasera e sarà una puntata tranquilla è finita la settimana tutti abbiamo voglia di rilassarci un po io sono molto rilassato un po preoccupato per la diretta di domenica ma comunque in qualche modo faremo ma prima di domenica c'è l'ultimo episodio del podcast di questa settimana e cioè questo episodio questo è l'ultimo e anche se rilassato è sempre un esercizio molto importante per tanti di voi per tutti che studiate la mia lingua e che vi impegnate molto anche quindi come sempre ci metto la voce ma anche se sono più rilassato del solito ci metto il tempo questa tarda serata inizio della notte ormai e mezzanotte 14 quindi un po da vampiro questa sera ma non sono stanco però quindi sono rilassato pronto per andare a riposare ma non troppo stanco e quindi come dicevo anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto vi racconto qualcosa della giornata oggi lo faccio senza essere troppo preciso con solo con qualche ricordo molto generico oggi non entro nei dettagli come faccio di solito e dopo vi do qualche notizia non sono tante solo tre alla fine tutto questo ovviamente sempre con lo scopo di migliorare il vostro italiano di aiutarvi a fare un po di pratica di pratica di ascolto di un madrelingua che parla bene prima di iniziare anche oggi anche di più oggi io sono rilassato quindi rilassatevi anche voi cercate un posto tranquillo senza rumori senza rompiscatole un momento tranquillo in cui potete rilassarvi appunto e non avere la testa piena di altre cose come del lavoro o di qualche altro tipo di problema da risolvere a quel punto quindi cercate di sintonizzare le vostre orecchie sulla mia voce cercate di abituarvi a questo mio modo di parlare e prendetevi tutto l'italiano che volete tutto l'italiano che riuscite a prendere parole espressioni modi di dire anche solo lo stile se volete il mio accento la mia intonazione non lo so prendetevi tutto se vi manca qualche pezzo qua e là qualche parola non vi fermate scusate non vi fermate subito continuate ad andare avanti se potete capire quello che dico continuate fino alla fine tornate dopo indietro con calma e riempite quei vuoti riempite quei buchi anche con qualche piccola ricerca se è una nuova parola se è una nuova espressione andate a controllare il significato riascoltate bene la mia pronuncia insomma con questo lavoro quelle parti mancanti si fisseranno molto meglio nella memoria e diventeranno il vostro patrimonio di italiano da usare nelle conversazioni con noi quando venite qui in italia a fare una vacanza o una una bella visita bene questa è la mia solita introduzione forse un po più informale e serve per scaldare i motori in questo caso le vostre orecchie prima di cominciare a parlare un po di questo 18 marzo cosa è accaduto nel 18 marzo di paolo beh non c'è stato niente di eccezionale è stata una giornata normale ma molto piacevole assolutamente piacevole tutta la settimana è stata molto buona sono molto contento di questo una bella settimana devo dire e fra poco inizia anche il fine settimana con un po di riposo in più in realtà ho già un programma bello pieno perché domani ho almeno tre lezioni mi devo preparare un po per la diretta domenica ho altre tre lezioni ho la diretta da fare la sera quindi non non sarò esattamente sempre a riposo ma è il fine settimana e per qualche motivo questo mi rende già più riposato comunque dicevo una bella settimana è un bel venerdì per chiudere il podcast l'ho fatto di mattina oggi ma è andato bene non non c'erano rumori durante il giorno tre lezioni tutte molto buone una al mattino una al pomeriggio e una alla sera in particolare alla sera ho rivisto un vecchio e caro amico che non vedevo da un po mi ha fatto molto piacere parlare con dennis dopo un po di tempo che non ci sentivamo è stata una lezione non una lezione una chiacchierata molto interessante come sempre del resto quindi tre lezioni non molto carico di lavoro ma nel nei periodi tra una lezione un'altra ci sono state altre attività in generale posso dire che ho fatto meno di quello che avevo programmato ma ancora è stata una giornata produttiva e comunque non sono stato su un letto a dormire ma sono stato sempre in attività quindi non non posso dire di essere stato pigro semplicemente ho fatto meno cose del previsto anzi per essere più esatto ho impiegato più tempo a fare alcune cose quindi è rimasto meno tempo per fare tutto quello che volevo fare ma per esempio al mattino ho finalmente recuperato il ritardo su youtube ho pubblicato tutti i podcast se quasi tutti all'eccezione di giovedì e di oggi quindi per gli amici che mi ascoltano su youtube adesso siamo praticamente in pari con il podcast quello che trovate sul blog e sulle altre piattaforme è sempre di mattina ho preparato questi questi piccoli video diciamo e queste piccole le immagini per pubblicare sui social l'aforisma del podcast ogni giorno ne ho realizzati due o tre ci ho messo un po più di tempo del previsto e quindi praticamente è arrivata l'ora del pranzo alle tre avevo una lezione l'unica lezione l'unica lezione del pomeriggio e quindi sono uscito a correre era in programma questa corsa la corsa la terza corsa della settimana non ho mangiato a pranzo ma ho fatto uno spuntino metà mattina e poi un altro spuntino nel pomeriggio e infine una cena la sera ho comprato del cibo fuori niente schifezze ma un po di cibo più divertente no non divertente meno comune ho mangiato qualcosa di di più esotico del kebab tutto qua comunque a ora di pranzo non ho mangiato ma sono uscito a correre oggi ho fatto una corsa più lunga 10 chilometri non troppo veloce ma la più veloce delle tre di questa settimana non sono ancora al cento per cento ho ancora dolore e fastidio all'inizio quando corro all'inizio e quando smetto di correre alla fine però diciamo che per 5 6 chilometri il problema quasi non lo sento non posso accelerare troppo non posso andare troppo veloce perché sicuramente avrei di nuovo un problema più serio però in generale questa corsa di 10 chilometri che è durata più o meno un'ora quasi esatta un'ora un minuto non è stata affatto male un buon un buon passaggio per recuperare quindi sì sono soddisfatto come ho detto nel pomeriggio una sola lezione e poi avevo del tempo avevo praticamente cinque ore ma me la sono presa comoda a dire la verità e quindi in realtà volevo studiare un po ancora queste piattaforme per creare gli accessori del blog con la grafica del blog ma alla fine non ho fatto molto di questo e volevo anche preparare a preparare qualche idea per la diretta ma anche in questo non ho avuto molto successo quello che ho fatto invece sicuramente pubblicare sui social gli aforismi li avevo preparati al mattino e ci ho messo un po più di tempo a pubblicarli avevo un problema con instagram sul mio telefono e questo mi ha fatto perdere un po di tempo ma comunque era un po arrabbiato con me stesso per questo perché ho sprecato un po di tempo sono stato lento ma mi è tornato il sorriso quando ho avuto una breve conversazione su skype con j che come sempre mi fa cambiare l'umore quando è un po nero comunque dopo aver completato questo questa operazione questa sì questa pubblicazione degli aforismi sui social ho deciso di uscire per comprare del cibo una cena tranquilla con del kebab come ho detto e poi l'appuntamento con dennis che è durato un po più di un'ora ma quasi un'ora precisa in realtà e poi una breve pausa beh in realtà non molto breve forse un paio d'ore no in realtà ho iniziato a leggere quella prima di fare il podcast prima di iniziare questo podcast ma comunque insomma la serata finisce con questa registrazione quindi la la giornata è stata come ho detto molto rilassata proprio come questo podcast come potete sentire vado avanti in modo molto tranquillo senza preoccuparmi di errori o di silenzi che ci possono essere è proprio per questo perché mi sento molto rilassato questa sera credo che dormirò molto bene dopo aver finito questo lavoro tutto qui quindi il mio venerdì 18 marzo non c'è altro da aggiungere c'è solo una cosa che voglio dire ho deciso anche un altro piccolo cambiamento quando c'è la domenica la diretta quando la domenica c'è la diretta non farò il podcast quindi il podcast ci sarà dal lunedì al venerdì diventa un po' difficile fare la diretta la sera e poi il podcast dopo oppure la mattina presto dopo la settimana scorsa l'ho fatto ma probabilmente grazie all'adrenalina della paura del primo episodio era un po' elettrico come come dico io vuol dire un po' pieno di adrenalina e sono riuscito a fare anche il podcast ma mi sembra che cinque podcast una diretta in una settimana sono ancora un buon numero di contenuti da offrire quindi sì la domenica faccio la diretta e non farò il podcast ci risentiremo quindi adesso con l'episodio di lunedì non di domenica ma con questo ovviamente vi invito anche a seguire la diretta su twitch non è difficile si può entrare con un account gmail con un account amazon prime anche con altri forse anche facebook credo comunque non è troppo difficile entrare e venire a vedere e a sentire quello che faccio che faccio e spero che sia qualcosa di buono ovviamente bene non mi sono ancora fermato e vado avanti fino a quando qualche rumore me lo impedisce diamo un'occhiata brevemente alle notizie che ho scelto oggi per voi la prima riguarda il 18 marzo perché oggi è la giornata nazionale in ricordo di tutte le vittime del covid l'anno scorso c'è stata la prima celebrazione e quest'anno la seconda e purtroppo ancora oggi ci sono vittime non vi do il bollettino come come ho promesso ma vi dico che se ci sono ancora abbastanza casi e purtroppo ancora vittime questa giornata è dedicata a loro sul blog ho ripubblicato il post dell'anno scorso con con questa poesia che è stata scelta per questo giorno una poesia di aspettate perché non mi ricordo il nome a dire la verità devo cercarlo questo podcast è molto rilassato come vedete non sono preparato ok beh la poesia scelta per questo giorno si intitola tu ci sei ed è di ernesto oliviero questa era sicuramente quella dell'anno scorso ma credo che sia quella scelta per per ogni anno quindi per per questo giorno in memoria delle vittime del coronavirus vi invito a andare sul blog e leggerla è una poesia diciamo diciamo di carattere un po religioso forse ma comunque è in memoria delle vittime e mi sembra giusto almeno leggerla bene questa era la prima notizia di cui vi volevo parlare per la seconda ho dovuto aspettare il treno la fine del treno mi sono fermato sì non è stato possibile continuare fino alla fine c'eravamo quasi non manca molto alla fine del podcast ma purtroppo è passato uno degli ultimi treni della notte e quindi non è stato possibile continuare a parlare siamo a mezzanotte e 37 minuti e la seconda notizia di questo episodio riguarda l'economia europea e indirettamente la crisi la guerra non la crisi la guerra in ucraina perché il nostro paolo gentiloni il commissario per gli affari economici dell'unione europea ha parlato chiaramente di una crisi economica di un impatto molto serio sull'economia europea di questa guerra insomma ha chiaramente parlato degli effetti economici di questa guerra questo è il suo lavoro non perché a lui non interessi il problema della guerra ma la sua analisi era da un punto di vista economico come commissario per gli affari economici chiaramente l'economia rallenta anche per le sanzioni che l'europa ha imposto alla russia sanzioni che hanno un impatto e un costo anche per noi ma come ha detto mario draghi è un prezzo necessario da pagare per affermare i valori dell'unione europea e di molti paesi dell'unione europea di tutti i paesi dell'unione europea quindi speriamo che questa crisi finisca soprattutto per le popolazioni coinvolte speriamo che le armi smettano di far sentire il loro rumore e si torni a discutere dei problemi perché questo ovviamente è nell'interesse di tutti quanti nessuno escluso di tutto il mondo beh nel consiglio dei ministri invece di ieri mi pare c'è stato come ho detto c'è stata la decisione di intervenire per aiutare le famiglie e le aziende proprio per con i problemi causati dalla questa difficoltà dell'economia soprattutto nel mondo nel campo energetico questo è quello che ha detto oggi mario draghi la sfida più grande per noi in questo momento è proprio quella energetica la sfida per l'italia diciamo da un punto di vista economico e per questo motivo il governo ha stanziato cioè ha messo a disposizione 4 miliardi e 400 milioni di euro per mantenere i prezzi dei carburanti più bassi e anche per aiutare le famiglie con la bolletta dell'energia cioè i conti le fatture energetiche questa è in realtà l'ultima l'ultima notizia che vi do non ce ne sono altre c'è un'ultima notizia che serve poi a lanciare l'aforisma ho scelto l'aforisma di oggi per questa curiosità che ho letto nel 1981 quindi 31 no 41 anni fa io avevo solo sei anni e mi ricordo ancora bene questo programma 41 anni fa è iniziato un programma storico della televisione italiana che si intitolava il mondo di quark questo programma andava in onda era trasmesso nel primo pomeriggio dopo la scuola mentre ancora mangiavo il carissimo piero angela il padre di alberto angela appariva sullo schermo di rai 1 e ci parlava di tutte le cose possibili e immaginabili scienza storia matematica filosofia archeologia astrologia no non astrologia astronomia mi sono confuso però angela non non ama credo molto questo questo questa disciplina è stato un programma che per decenni ha fatto compagnia ai ragazzi e bambini e ha insegnato tante cose se conoscete alberto angela e pensate che sia bravo beh suo padre è forse anche più bravo di lui per me è una trasmissione cult sono cresciuto guardando questa trasmissione e ricordo ancora i primi giorni in cui veniva trasmessa era molto interessante l'ho guardata quasi tutti i giorni per molti anni quando ho letto questa curiosità ho pensato di raccontarvi di questo programma il mondo di quark e poi dopo qualche anno piero angela ha iniziato a fare anche delle puntate di sera puntate speciali super quark si chiamava questo programma comunque cercate qualcosa su youtube perché è anche un buon esercizio con la lingua l'italiano di di questi di questo programma è molto buono per studiare secondo me e quindi quando ho deciso di parlarvi di questo programma storico della televisione italiana e del suo presentatore storico piero angela ho deciso anche di dedicare l'aforisma proprio a lui a questo a quest'uomo a questo divulgatore così eccezionale questo il nome di personaggi come questi divulgatori bene quindi la frase celebre del celebre piero angela è questa la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente delle domande sono certamente d'accordo con questa frase brillante di ovviamente un grande pensatore come piero angela e ovviamente icepeak italiano lo saluta e lo ringrazia anche per le tante informazioni che mi ha dato da bambino e con lui chiudiamo l'episodio di oggi credo che sia un buon episodio forse questo stile più rilassato è più efficace non lo so ditemelo voi ma comunque come dicevo chiudiamo qui questo episodio e iniziamo finalmente il fine settimana godiamoci un po di riposo tutti quanti proverò a farlo anch'io e vi do l'appuntamento a prima di tutto vi ringrazio come sempre di avermi seguito nelle ultime settimane i numeri sono molto buoni davvero vi ringrazio vi do l'appuntamento a domenica sera con ice stream italiano questo nuovo progetto di icepeak italiano se non potete partecipare guardate le registrazioni su youtube o su twitch mettete qualche like sottoscrivete il canale aiutatemi a far crescere questo progetto ditelo a qualche amico insomma fatemi un po di pubblicità in qualche modo perché mi piacerebbe continuare ancora a lungo a fare tutto questo con il podcast ripartiamo invece lunedì con l'inizio della settimana e spero di ripartire ancora meglio questo episodio come ho detto mi è piaciuto quindi spero di divertirmi ancora lunedì insieme a tutti voi per oggi però è davvero tutto per questa settimana è davvero tutto vi auguro ancora una volta un buon fine settimana e vi saluto ciao a tutti ciao a tutti